Ciao ragazzi, buongiorno! Allora, questa mattina voglio proporvi un gioco che ho visto e che mi è piaciuto subito. Si chiama Al ritmo della frutta. Adesso vi spiego il perché. Ho preso della frutta e l'ho messa sul tavolo. Ho preso delle mele, delle arance e dei limoni. Ok? Perché andremo ad abbinare ad ogni frutto un movimento coordinativo. Ok? Vi faccio vedere. È più facile da far vedere che da spiegare. Guardate, esempio. Sulle mele, battiamo una volta. Sulle arance, doppio tavolo. Limone, lo schiocco delle dita. Ok? Ci siamo? Riproviamo insieme. Mela, mela, arancia, schiocco delle dita. Questo è il gioco. Voi potete farlo con dei pennarelli se non avete la frutta. Potete farlo con dei mattoncini. Potete farlo con quello che volete, insomma. Adesso proviamo a renderlo un po' più difficile. Il ritmo della frutta. Vediamo. Mettiamo le arance. Facciamo tutto doppio adesso, eh? Qui ci vuole un po' di concentrazione. Perché mi sbaglio anch'io, eh? Sto imparando anch'io a farlo. Abbiamo due mele qua. Pronti? Mi concentro? Ok, è venuto. Beh, per rendere ancora più difficile, naturalmente, potete poi variare i frutti, no? Il frutto, lo mettete scombinati. Allora, qui sì che bisogna ragionarci bene sopra. Ad esempio, la mela la metto qua e parto con un limone. Qui. Proviamo a fare l'ultimo insieme? Questo è difficile, però. E se mi sbaglio, portate pazienza, eh? Non l'ho provato tantissimo. Proviamo. Limone. Partiamo. Ho sbagliato. Va bene, la mela. Vediamo l'ultima mela. Cosa ho fatto dietro a lei? Beh, hai fatto... Cosa c'era da fare andare avanti? Sì. Un quarto. Eh, va bene. E avete visto? Dunque si può anche sbagliare. Provateci. Non fate melare insieme un vostro familiare. Vedrete che passerete dieci minuti in compagnia ed è carino. Ok, ragazzi. Spero che questo esercizio al ritmo della frutta vi sia piaciuto. E non mi resta che salutarvi. Dunque ci vediamo al prossimo giochino. Un saluto da me e da Dante. Ciao. Ci vediamo. Anche da Elia. Ciao a tutti. Ciao, ciao.